Aiuto, aiuto, qualcuno mi aiuti, qualcuno mi aiuti! Mamma mia, che brutto incubo, proprio perché faccio sempre... In che villaggio siamo? E la casa è la stessa però, siamo in un altro villaggio. Hanna! Eccomi! Dove sei? Qua sopra! Ah, ma anche tu adesso! Guarda, c'è il mantello e vista! Oh, wow, che bello! Guarda, adesso anche io, adesso invece ho unissimo vestito. Bello, bello! Comunque... Ma perché siamo in questa casa molto messa male? In periferia, eh? Eh, vabbè... Comunque oggi ho fatto un bruttissimo incubo, come... Quanti giorni sono passati dall'ultima volta? Ho fatto un incubo dall'ultima volta? Che ne so! Perché tu mi lapisci sempre! Vabbè, vabbè, dai! Va a farti un giro! Va a vedere com'è bella questa città! Va bene, ciao vado! Ciao! Ciao villager, come sta? Aspetta però! Eh? Prima di andare, io devo andare adesso perché... Andare a fare un lavoro molto importante! Ok, ciao! Come cavolo sei? Come cavolo cammina sto villager? Ciao! Eh beh, sono messi un po' male! Non ci hanno mai visti, eh! Sono... Sono felici di vedere persone viventi, umane, non villager! Esatto! Ehm... Comunque... Facciamo un bel giro! Aiuto! Aiuto! Oh no! Villager! Salvami! Sono in trappola! Vabbè! Basterà aprire la porta, no? Ma... No, la maniglia! Non si... Non si apre la porta! Lo so! Mi hanno rinchiuso! È arrivato un cattivo e mi ha rinchiuso la porta... Mi ha chiuso a chiave la porta! Ma chi sarebbe così tanto cattivo da chiuderti la porta? Non lo so! Avevo una maschera! Non si apre! Aveva una maglia a quadretti! Maglia a quadretti? No! E aveva i capelli biondi, però non ho visto la sua faccia! Ma io... Una maglia... Una maglietta... Cioè... No, non può essere Anna! Forse ti stai sbagliando con qualcun altro! Ma non lo so! Io ho fatto... Era fatta così! Poi non so chi sia quest'Anna! Quindi... Che ne so io! Non lo so! Ora vado a parlare con lei! Arrivo Anna! Ho sentito che mi hai chiamato! Sì Anna! È vero che sei stato a trappolare questo povero villager? No! Io... Io non ho trappolato niente! Nessuno! Non lo farei mai! Io sono troppo buona per far questo! Siamo sicuri! Aspetta! Non hai capito le sue prove! Aspetta! Forse è stata la mia gemella cattiva! Sì sì! Non inventarti scuse! No veramente! Io ho una gemella cattiva che... Lei non mi parla mai perché pensa che io sia una stupida! E... E... E lei c'è... Ogni giorno rapina banche! Ruba bambini! È peggio del purple guy! Già! Eh sì! Sì! Spero proprio che riusciamo a liberarlo! Magari dobbiamo chiamare un qualcuno! Tu sembra che sia sposo qualcosa da dove ci penso! Dove? Dove? Magari qua è stata lei a fare spondere questo così! Anche se si fosse aperta la porta non poteva scendere! Già! Che malefica mia sorella! Devo andarle a parlare immediatamente! Ok! Ora vado! Vado a cercare la casa! Ciao! Ciao! Dove sei? Vieni fuori! Vieni fuori! Ma... Sei tu! Sì! Sono io! Allora hai scoperto quello che ho fatto! Ahahahah! Perché hai rapito quel villager che ti aveva fatto di male? Eh... Niente! Ma io volevo solo... Dove sei finita? No! È scomparsa! Oh no! Devo andarlo subito a cercare! Lorenzo! Lorenzo! Hai parlato con tua sorella? Sì! Lei mi ha detto che... Cioè non ho capito cosa voleva dire! Mi ha detto... Io ho... Cioè ho... Ho... Intrappolato quel villager solo... E poi è scomparsa! Non so più cosa mi ha detto! Ma... Puoi descrivermela? Oppure... Aveva qualcosa infatti che... Aveva... Allora hai vestito uguale a me? Eh... È solo che aveva... In quel momento... Una... Maschera... Però io so com'è fatta! Mmm... Cioè... È mia sorella! È un margine di sinistra uguale a te! Cioè... In poche parole ha gli occhi uguali a me! È solo che non so adesso come ce li ha i suoi occhi! Perché... Prima... Quando eravamo piccole... Lei non era così malefica! Cioè... Lei era più buona! Cioè... Adesso è cambiata! Non so il perché! Capito? E quindi adesso non so cosa fare! È tardi ora! Ma vabbè non deve scappare il villager ovviamente! Beh... In effetti mi ero dimenticata di quello! Scusami signor villager! Aspetta! Vado a chiamare un falegname! No! No! Non preoccupare! Penso di avere la super forza! Ok! Vero almeno eh! Forza! Già! Ah! Ok signor villager! È libero! È libero! Signor villager! Batteria scarica! Batteria scarica! Oh! Villager! Sei impazzito! Dai! Ti liberiamo! Ma era un robot! Oh no! Quindi... Cioè! Era una truffa! Era una truffa! Vabbè! Meglio così no? Mh mh! Eh vieni! Forza! Aspetta! C'è! Non riesco più ad uscire! Ci sarà un'uscita di... Oh no! A quel punto pare qualcuno sapeva che potevamo... E non possiamo romperlo questo! È troppo duro! Anche per la nostra super forza! Già! Dai forza! Prova a rompere non so questo muro invisibile che non riesco neanche a toccare! Né anch'io! Ho tenuto fatica! Mh! Non ci riesco! Oh! Siamo intrappolati qui! Allora era proprio una trappola questa! Oh no! Mia sorella! Cattiva! Mh! 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 Ora! Cosa possiamo fare qui? A parte mangiarci un bel toast! Mh! Io però ho un piccone di fiducia! Mh! Allora potresti... Non so! Rompere questa... Questo di qua! Dalla finestra! Può darsi! Prova dai! Sì ma... Non ci basta! Ma rompe anche la cobblestone! Ok! Non si rompe! Ma questa è ossia dipinta di grigio! Oh no! Pure questo regno! E' vero! Sembra che l'unico materiale vero sia questo qua! E' il vetro! Può vedere! Sì! Questo si rompe! Anche questo! Aspetta! Forse questo si può rompere! Aspetta! Sì si può rompere! Ecco un punto! Da dove posso essere spostato! Allora! Dalla... Dalla terra? Sì! Dai prova te! Ok! Io adesso mi sono stufato! Te almeno è la... È la... È la... Oh! Guarda! Ho attivato un pulsante dentro il tavolino! Si è rotto il muro! Oh! Bene! Possiamo uscire! Vieni! Villager! Villager! Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Dovete dovuto tornare a vostre case! Perché? Non vogliamo usare i piedi! Sì! Ah! Non potete annusare i piedi! Dovete scappare! Mia sorella malefica! Vi vuole tutti in trappola e vuole farvi diventare robot! No! No! Noi non vogliamo diventare robot! No! Noi non vogliamo diventare robot! Basta! Non parlo più con voi! Fuggiamo! Che cosa ha fatto con la testa quando hai picchiato? Vabbè! Facciamo... Facciamo... Tu sei in trappola? Sì! Nuota! Ok! E... E... Non mi piacciono i villager! Sono brutti! Guarda! Qui c'è una casa molto strana! Questo balla! Cosa? Dove sei? Guarda! Cioè che casa strana che è tutta incastrata nella roccia! Mmm! Vediamo se ci abita qualcuno! Magari è in trappola! No! Ci abita solo un pezzo di terra! Un pezzo di terra! Ma che razza di casa è mai questa! Abbo! Non lo so! Una casa fatta male da quello che l'ha fatto! Cioè... Già! Sicuramente è stata fatta malissimo! Vabbè! Mmm! Vediamo un po' se c'è qualcun altro da salvare! Dal blocco di terra è spuntato un fiore! Fa vedere! Viene controllare! Dove sei? Qua! Mi trovi! È spuntato un fiore giallo! Ma chi è? Io sono Flawi! Flawi il fiore! Ops! Che manisca! Povero fiore! Perché l'hai distrutto? Vabbè! The sweet! Va di nuovo di là! Non mi ha distrutto! Scappiamo da questa casa e intrappoliamolo dentro! Sì! Intrappoliamolo! Aspetta! Prima di andare via voglio chiedere una cosa a questo bel fiore! Perché mi piace giallo! È carino! Ma tu chi? Ma... Ma tu chi sei? Io? Ha ha ha! Ha ha! Ha ha ha! Ok... Questo video non c'ha senso! Comunque! Spero che vi sia piaciuto! Se non avete capito la fine! Quello dove c'è le gambe della mia skin! Perché... È tipo come per dire... To be continued! Continuerà il gioco! Il video! Il film! Come si chiama? Dov'è finito il villaggio! Villaggio! Dov'è finito il villaggio! Il fiore! Il fiore! È qua! E... Comunque... Ehm... Vabbè la fine si ha senso perché tipo dovrebbe essere quella dovrebbe essere la sorella maligna mia! E la sorella maligna! In realtà... Diciamo cosa... Cosa farà più avanti? No... Non lo diriamo! Non lo diriamo! Perché non lo sapevamo neanche noi ancora! Lo so! No io non lo so! Ehm... Ok... Diretti lollo! Diretti... Mmm... No... Cosa stiamo facendo? Lago! 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 Ma che hai messo un video? Ehm... Non lo so! Ok! Ci vediamo al prossimo video! Ciao a tutti! Ciao! Ciao! Ciao!